Sono Andrea Celli, lavoro per l'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR di Roma. Nel mio intervento ho fatto un po' la storia di questo istituto, che è il primo del suo genere al mondo proprio di calcolo numerico e matematica applicata. È stato fondato ben 90 anni fa, nel 1927. Inizialmente i primi calcoli venivano fatti con le calcolatrici meccaniche, che allora è il top della tecnologia. Subito dopo la guerra si è passati all'utilizzo di calcolatori elettronici. Fin dal 1945 Picone, che è il fondatore dell'Istituto, si è incominciato a cercare di dotare l'Istituto di un calcolatore elettronico. Nel 1952 avevamo già pronto un progetto esecutivo per costruire il primo calcolatore italiano, però per problemi di politica, della ricerca e di finanziamenti il progetto non ha potuto andare in porto. Nel 1955 è arrivato invece il nostro primo calcolatore, acquistato dalla ditta Ferranti inglese. Il nome Ferranti è un po' particolare perché il fondatore di questa ditta era figlio di un immigrato italiano. Questo è il primo calcolatore, a molti primati, che viene messo in commercio. Questo calcolatore a molti primati perché è il primo che viene messo in commercio, il primo che è dotato di una memoria RAM e è il primo anche su cui si fanno molti esperimenti di musica, di composizione di testi letterari e di giochi. Sotto tutto questo lavoro c'è il genio di Alan Turing che mette per primo a disposizione un algoritmo per il gioco degli scacchi che capisce che un'istruzione HUT che doveva servire per dare allarme sul funzionamento della macchina e che aveva dei parametri di regolazione poteva essere usata per generare note musicali e quindi dà l'avvio a tutto quello che può essere l'utilizzo del computer per usi non prettamente scientifici. Tutte queste cose succedono proprio all'inizio degli anni 50, tra il 1951, 1952, 1953, quando veramente di queste cose nel mondo non si parlava e quindi questi calcolatori sviluppati dall'Università del Manchester sono veramente il punto di inizio per l'informatica per usi non prettamente scientifici. Grazie a tutti.